non ci ferma, questa è la magia di Robin Hood, vieni con me, guarda che spettacolo che bambone, non ci fermare su, adesso ci siamo qui, 19.99, attacca sta caciotto sono andato Robin Hood, 19.99, granchi blu per tutti, 2.99, guarda che bambone e ringraziamo in particolare a tutti i nostri clienti che già ci onorano, sempre quando c'è il 16 euro a chi, bastoncino, guarda che spettacolo, il Vipo, il Corallo del Mar, guarda polpi locali, piccolate di mare, guarda questi merluzzi locali, spettacolo stamattina, guarda questi ricci, ricci per tutta l'Italia stamattina, per tutta l'Italia, guarda che merluzzi palangare, 8 euro a chi, stota nei locali, caramale di vino, guarda che spettacolo, andiamo prima di là, gamberi rossi, 14 euro, vieni con gamberi, un russetto per signoroni, 14 euro a chi, pezzo ogni 16 euro, calamari verace, piccolate questi merluzzi di gambe, mamma mia c'è lì, guarda che stampano di fizzarello, guarda, c'è c'è, guarda quanto è c'è, e tu cosa hai messo per l'Uzzi, c'è lì, 5 euro a 99 euro a chi, merluzzi locali, Polipi Sardegna, anche con il maltempo, non ci fermiamo mai, paranzi progetti, paranzi progetti che ti vengono a pazzi, c'è lì prendo, spettacolo, docci 6 euro a 99, pescatrici, scampi 6 euro a 99, polpi grandi per tutto quanto, 11 euro a chi, bandiera, su qua, questi scolfani qui, lo devi vedere qua, da vicino ti, apprendi Ettore, bevolo su, vado a sciocci un po', sciocci, vado a 3,10 euro, seppia 6 euro a 99, lambuca fresca, gamberetti, 3,99 euro a chi, 3,99, dalla mariotta, mazzangoli, gamberio, orate 5 euro a chi, a Spernotti, 3,99, pesce a spada sale, 10 euro, 10 euro, pesce a spada, salmone 10 euro, vado a cacenti, capri a cacchi di spettacolo, vado a questa, vado a 8,99 a chi, riprendi, fratello spostati un po', lupini 1 euro a 99, vai, ragazzi, siamo un pochino incasinati, lupini 2 euro a chi, lupini grandi 5 euro, te la tuffi 12 euro, vado a spettacolo, c'è, ostri come tutto quanto, lupini con me, andiamo a prendere di qua, Alice, vado, Alice per senza lì questa mattina, cioè siamo subito incasinati ragazzi, scusateci per il video, Alice 50 centesimo chilo, Alice 50 centesimo chilo, c'ho paura, il biglietto non può male, vado a misto 1 euro a chilo, Alice gigante 2 euro, ma che spettacolo, andiamoci a fare una parolamica, al lato vip, vieni con me, vieni, ostri che 3 euro e 50, ostri che 6 euro, mamma mia, lo ha spettacolo, vieni con me, vieni con me, vieni con me, che spettacolo ragazzi, vai, vieni con me, sali sopra, fratello, andiamo, 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 veloce, 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 vieni, 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 vieni con me, vieni con me, vieni, guarda, non ci fermiamo mai, mazzangoni giganti, polipetti veraci, locali, c'è, locali, guarda che spettacolo, c'è, c'è, riprende, nuva riprocita, ricciole locale, gamberi rossi di fuoco, scale amari veraci, scamponi giganti, gamberoni rossi, ancora pezzogne, scorfani, stai lì sopra, vai, guarda questa panoramica, c'è, c'è, pezzogne, scorfani, orate di mare, ricciole, dentici locali, c'è, mamma mia, cerni a brune, cerni gialli, cerni a brune, cerni a brune, cerni a brune, e tutti i spazi, ragazzi, vi aspettiamo in tanti, vi mandiamo un bacio forte, siamo super incasinati, fatti una panoramica in mezzo al nostro po', un bacio.